Siamo su Montemoro, 1180 metri sul livello del mare, sullo spartiacque tra la valle Prino e la valle del Carpasina, quindi la valle argentina. Sullo sfondo si vede il monte Saccarello, da questa parte in mezzo alle nuvole il toraggio di Pietravecchia, un posto veramente panoramico, in basso vediamo il paese di Carpasio, in questa direzione c'è Colle Dogia dove si intravede una macchina che passa e questa è la croce che è su Montemoro, 1184 metri sul livello del mare, di fronte a noi Monte Ceppo, queste immagini sono dell'albergo Lucciola di Santo Stefano al mare, a circa 40 minuti di automobile dove abbiamo lasciato la macchina, a Arzene, per informazioni www.albergolucciola.com oppure 084 48 42 36. FIQno